Emily! Emily! Ehi! Cosa stai facendo? È da un'ora che cerco il mio sorella ma non la trovo. Vuoi che ti dia una mano? Eh, magari. Ok, io vado da quella parte e tu vado a quella, dai. Ok. Emily! 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 Grazie a tutti! No! 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 Emily! 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 Dov'è finita? È da due ore che ti cerco. Andiamo a casa. No! 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 No!